Un cordiale saluto da Federico Grasso e ben ritrovati con il mito di Arpal. Quest'oggi sulla Liguria cielo sereno poco nuvoloso. L'instaurarsi di un flusso umido da sud favorisce un aumento della nuvolosità nei bassi strati nella serata. I venti infatti saranno in prevalenza deboli da sud con locali rinforzi moderati lungo la costa di Ponente sui rilievi. Il mare poco mosso nel centro Ponente, mosso a Levante in progressivo calo. Le temperature massime sono ovunque comprese tra 22 e 25 gradi. Domani, mercoledì 25 settembre, il transito di un impulso perturbato associato alla formazione di un minimo sul Mar Ligure favorisce condizioni di nuvolosità variabile con il regolare densamenti marittimo costieri più compatto in mattinata e possibili rovesci temporali anche localmente forti già dalla mattinata a Levante. Altrove potremo aver isolato i fenomeni nelle ore centrali dell'interno, mentre nel pomeriggio progressive schierite partiranno da Ponente, seppur disturbati da qualche velatura. I venti saranno tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Ligure, in prevalenza meridionali nelle ore centrali con rinforzi fino a 50-60 km all'ora da sud-ovest sulla costa di Ponente e soffieranno da nord invece in serata. Il mare sarà in aumento a mosso già dal mattino, diventando molto mosso per onda da sud-ovest nel pomeriggio a partire da Ponente. Temperature minime in costa comprese tra 17 e 19 gradi, nell'entroterra tra 12 e 13, massime ovunque tra 20 e 24 gradi. Giovedì 26 settembre, infine, una graduale rimonta del campo di alta pressione dall'Atlantico riporta condizioni di stabilità sulla regione, in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso per qualche passaggio di nuvolosità medio-alta. I venti saranno deboli o moderati in circolazione ciclonica sul Mar Ligure con locali regimi di brezza nel pomeriggio. Il mare sarà molto mosso nelle prime ore della notte, calerà a mosso fin dal mattino. Temperature minime in lieve calo, con valori in costa compresi tra 15 e 17 gradi, nell'entroterra tra 9 e 13, massime ancora tra 24 e 26 gradi. Ricordandovi che un dettaglio sul metodo Ligure è consultabile sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook dell'agenzia, vi auguro una buona giornata. A risentirci!